Le protesi possono spostarsi o girarsi? Sì, le protesi possono andare incontro a uno spostamento e anche a una rotazione. Allora, lo spostamento, diciamo, è sull'asse una deformazione della tasca. Quindi, una tasca perché scolpita in modo magari non corretto o perché nell'arco del tempo l'evoluzione, la pressione la deforma, può diventare troppo grande oppure può diventare piccola in conseguenza della contrazione periprotesica, del cosiddetto rigetto. Bene, tutto questo fa sì che la protesi si sposti. Infatti sappiamo che la contrazione capsulare determina una riduzione ed uno spostamento spesso in alto della protesi stessa. La rotazione. Beh, la rotazione è un concetto differente legato alla forma della protesi. È molto difficile che la protesi si ruoti sotto sopra. E invece può succedere che ruoti lateralmente o medialmente. Voi capite che la rotonda, la protesi rotonda, beh, se ruota, anche se fa un giro di 360 gradi, non ci si accorge di nulla. La protesi anatomica, invece, che ha una forma a goccia, quindi ha un alto e un basso, e beh, se ruota anche magari di poche decine di gradi, purtroppo cambierà la forma della mammella. Qui vi rimando alla domanda specifica sulle protesi, dove io ho illustrato, in modo molto chiaro, facendovi vedere delle protesi, la differenza tra un'anatomica e una rotonda. E chiudo con un concetto. La mastoplastica additiva non è per la vita. Il risultato, comunque estetico, è destinato a cambiare. Perché cambia la mammella. Cambia lo spessore della mammella. Cambia la forma della mammella. E il compromesso che il chirurgo deve ben discutere con la paziente è quello di cercare di trovare una protesi che sia di forma adeguata, ma che anche rispetti l'invecchiamento della paziente, che non si può conoscere. Cambia lo spessore della mammella.